Buongiorno a tutti, allora abbiamo la sfida con il cuoco, perché mi ha preparato 15 ravioloni ripieni di brasato con un bel letto sotto di grana, come condimento abbiamo dell'ottimo burro e salvia che fa grandissima libidine e quindi 15 ravioli, devo riuscire a mangiarli tutti, io gli ho detto ne mangio anche 18, lui fa no non ce la farai e quindi adesso c'è la sfidona tra me e il raviolo o tortellino che dir si voglia, anche se noi preferiamo sempre la cugina del tortellino ah beh, mi accontento del raviolotto, detto questo ragazzoli adesso mi appresto a sfidare il raviolo e naturalmente ci vediamo come sempre alla prossima, guardate che piatto spettacolo alta cucina, altra categoria, chaus